Sono ancora qua, non mi hanno questa volta assoggettato a tutte le regole perché avevo già spento il telefonino, avevo già fatto tutto prima, quindi mi pare che oggi i miei due giannizzeri siano soddisfatti. Allora questa volta oltre a dirvi che naturalmente respiro bene come al solito, voglio parlarvi del tempo indeterminato, mi direte ma cosa che c'entra al tempo indeterminato, cosa che mi viene in mente di parlare al tempo indeterminato, no mi viene in mente di parlarvi al tempo indeterminato perché ho sentito una trasmissione dei sindacati la Camusso, poi un altro signore che è nuovo della CISL, tutta una serie di elucubrazioni, si dice elucubrazioni, di citazioni eccetera, che ci vuole il tempo indeterminato, tempo indeterminato, tempo indeterminato. Allora voi sapete il mestiere che faccio, vero? Ecco. Allora, che cosa ho analizzato? Il tempo indeterminato è una cosa riservata a una categoria di persone, a quelli dello Stato, chi ha visto il film Il posto fisso di Zalone e si è fatto poi un'idea. Quo vado? Allora, quo vado dà un esempio di che cos'è il tempo indeterminato per gli statali, per impiegati del comune, per impiegati della provincia e giù di questo passo. Poi c'è il tempo indeterminato secondo i sindacati e io l'ho detto c'è il tempo indeterminato pubblico, ma c'è il tempo indeterminato privato. Allora io conosco diverse persone che avevano il tempo indeterminato in aziende private. Ma che cosa è successo? Che queste aziende private, alcune, sono andate per dirla a Montrentin dal culperaria e sono fallite. Allora quel signore che era a tempo indeterminato, che cosa è successo? Che non ha più nulla. E queste situazioni sono abbastanza frequenti e quindi il tempo indeterminato dovrebbe essere legato all'industria indeterminata. Quindi il sindacato quando parla di tempo indeterminato e che incita queste aziende ad assumere a tempo indeterminato, a me dire la verità, non me ne frega proprio niente, ma a me interesserebbe che ci fosse la garanzia che la ditta lavorerà a tempo indeterminato. Perché chi è nel pubblico, i carabinieri, la polizia, la guardia delle finanze, i piegati comunali, provinciali, che ho detto prima e che adesso, ripeto, hanno il tempo indeterminato. Perché i comuni difficilmente falliscono, perché i carabinieri dal culperaria noi va, non so, citatemi voi. Ma invece c'è molta gente che pur essendo a tempo indeterminato sono rimasti a tempo non indeterminato, senza niente, perché dopo anche sei mesi, sette mesi rischiano anche di non prendere più la disoccupazione. Questo è un grosso problema. Quindi mi piacerebbe che quando il sindacato parla di tempo indeterminato e che ha sempre un certo atteggiamento, non dico di disprezzo, ma insomma non proprio di grande amore verso questi privati che tirano alle volte la carretta e che molte volte vengono messi in evidenza come delle persone poco serie o delle persone che se ne approfittano, pensassero invece che il tempo indeterminato è tempo indeterminato se anche la ditta è a tempo indeterminato. Se no a tempo indeterminato con la situazione che c'è oggi, con la mobilità, tempo indeterminato mi spiace per i sindacati, ma è solo pubblico. Alla prossima!